le monedine e le metto qua allora le monedine stanno qua prendo questo che è vuoto metto qua metto questo dove stanno le monedine? no, stanno qua no no, è vuoto, stanno in me ma perché hai messo prima in mano? allora facciamo così metto queste monedine qua le metto qua in mano metto questo qua prendo questo e le monedine stanno qua allora ma stanno sempre là i monedini dove stanno? qua questo è vuoto eppure questo è vuoto aspetta grazie a tutti grazie a tutti